Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi su Corso Progresso 41, Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! Andrea Russotto contro la Serenità, grande prova di squadra, forse il Catanzaro, anzi, sicuramente il Catanzaro meritava qualcosa di più. Sì, grande prova di squadra, purtroppo nell'ultimo scorcio di partita, con gli ultimi 5 minuti c'è stato questo episodio che ci ha condannato al pareggio, però ci prendiamo a questo punto contro una squadra importante costruita in queste state per vincere, consapevoli dei nostri mezzi e che possiamo sicuramente dare filo alla torcia a tutte le squadre. Parlando delle tue prestazioni personali, prestazioni importanti, decisive, anche domenica, anche sabato assiste importante per Fioretti, ma se non segni è uguale? Beh, certo, la voglia di segnare c'è, la voglia di far gol è tanta, però questo gruppo, come abbiamo già dimostrato, abbiamo già detto in passato, lavora da gruppo, non si vede il singolo, non si vede i fatti personali e credo che come gruppo stiamo ottenendo risultati importanti e va bene così. A Gubbio che trasferta sarà? La trasferta è difficile, è una partita insidiosa come tutte e del resto, sappiamo che incontriamo una squadra che farà del tutto per vincere la partita anche perché gioca in casa e quindi saremo lì attenti, stiamo lavorando in settimana preparando questa partita importante.